Licinia Lentini ha raggiunto una discreta popolarità nel 1980 come showgirl nel varietà televisivo. Studio 80, la sua carriera cinematografica, iniziata nel 1976, comprende ruoli importanti in diversi film di genere e commedia all'italiana. A partire dagli anni 80 si è dedicata soprattutto al teatro. Tra i ruoli al cinema per i quali è maggiormente ricordata quello della signora Borlottine, l'allenatore nel pallone e quello della signora Bellugine e il commissario Logatto. Entrambi recitati accanto a Lino Banfi, oltre al personaggio di Moira in vacanze di Natale.